Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce il mio nome Rossella Pani, io sono una maestra di guarigione energetica con le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele. Benvenuto, benvenuta e complimenti per esserti registrata per guardare questo training. Ti mostrerò qualcosa di veramente potente, che ha cambiato completamente la mia vita e sta cambiando la vita ad altre persone. Scopri i tre segreti sconosciuti al 97% dei facilitatori della guarigione per connetterti alle frequenze di luce più elevate, facilitando così nei tuoi clienti vere trasformazioni in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, attraverso la protezione dell'Arcangelo Michele e senza assorbire i pesi degli altri. Prima di vedere cos'è la singola cosa più importante, vorrei chiedervi gentilmente di eliminare ogni distrazione per ricevere il massimo da questa presentazione. La singola cosa più importante è che si tratta di un nuovo livello di guarigione a cui tutti possono accedere facilmente, che può portare equilibrio in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale. Pensate che a soli tre mesi dal mio primo seminario di guarigione ho facilitato la guarigione di mio padre che si è ripreso dopo un'ischemia. Questo mi ha dato la spinta, mi ha dato la motivazione di continuare a studiare l'energia e la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. Una testimonianza di una mia studentessa, Tushuk Mariana, nonostante le resistenze iniziali per partecipare al seminario online di guarigione, è riuscita ad accedere facilmente alle nuove frequenze di luce, sentendo nell'immediato un forte calore nelle mani, passando da un forte senso di tristezza interiore ad una vera e propria trasformazione immediata, che le ha donato felicità, pace e serenità mai sentite prima, sentendosi in un livello più elevato nella propria frequenza vibratoria. Andiamo a vedere quello che è il problema più grande o i problemi più grandi per il facilitatore della guarigione. Se una persona è empatica, sensibile alle energie e hai paura di assorbire i pesi e le energie negative degli altri durante le sessioni di guarigione, oppure hai delle dotti naturali di guarigione come il prana, ma non sai come praticare la pranoterapia. Quando devi proporre un metodo di guarigione di tipo olistico, ad esempio una sessione di guarigione, non sai che prezzo far pagare. Oppure hai paura di chiedere soldi per le guarigioni. Ti viene difficile far capire alle persone che alcuni trattamenti funzionano benissimo anche a distanza e che non è necessario farlo in presenza. Oppure ti viene difficile spiegare i nuovi metodi di guarigione alle persone con cui vieni in contatto. Non sei sicuro o sicuro di sapere abbastanza. Non riesci ad esprimerti e senti che sicuramente ti mancano le basi. Senti che ti serve un coach per l'insegnamento. Senti che forse hai bisogno di guarire te stesso o te stessa e così dopo potrai aiutare gli altri. Hai delle resistenze al meritare, all'essere degno o degna di ricevere abbondanza. Oppure senti ostacoli nel ricevere l'abbondanza. Non sei sicuro o sicuro che anche tu puoi sentire l'energia o che puoi trasmetterla. Non sei sicuro o sicuro che le persone possono guarire veramente. Se senti una di queste cose, se hai una di queste credenze, sei nel posto giusto. Cosa vedremo oggi? L'elemento numero uno in assoluto più importante che riguarda la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce con la protezione dell'arcangelo Michele che può portare trasformazioni in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale. I cinque errori più comuni commessi dai facilitatori della guarigione che una volta risolti grazie al cambiamento del tuo mindset ti consentiranno di smettere di sentirti in colpa ed iniziare finalmente a sentirti degno o degna e meritevole di ricevere abbondanza infinita. Come diventare un canale pulito attraverso la più potente tecnica di purificazione giornaliera dei chakra per radicare la tua energia fino alla terra consentendoti di sentirti centrata, radicata e in equilibrio. I tre segreti sconosciuti al 97% degli operatori di guarigione empatici o sensibili alle energie che una volta applicati ti permetteranno di accedere alle frequenze di luce più elevate. Casi studio come tutti i miei studenti nei seminari hanno avuto accesso alle nuove frequenze di luce facilmente ricevendo trasformazioni e ritrovando maggiore equilibrio. Bonus una sorpresa speciale gratuita che rivelerò alla fine di questa presentazione del valore di 600 euro e molto molto di più. Perché dovresti prestare attenzione? Nel 2009 ho iniziato a sviluppare le mie capacità di sentire l'energia nelle mani e di percepire le energie sottili delle persone e degli ambienti intorno a me. Dopo una gitta le tombe dei giganti a Palau in Sardegna. Dovete sapere che le tombe dei giganti sono dei luoghi sacri molto potenti energeticamente. Arrivano persone da tutto il mondo perché vogliono ricevere guarigione e trasformazione in tutti i livelli. Personalmente ho ricevuto una grande apertura del mio canale del sentire. Sono sempre stata una persona empatica ma questa mia sensibilità dopo l'esperienza alle tombe dei giganti si è sviluppata in una maniera esponenziale. Tanto è vero che ho iniziato a percepire le energie intorno a me e anche a connettermi con l'Arcangelo Michele e con esseri molto elevati ed evoluti. Quindi tutto questo mi ha portato a fare una grande ricerca, un grande lavoro su me stessa e ho iniziato a studiare la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce. Tanto è vero che nel 2010 ho partecipato al mio primo seminario di guarigione con Eric Pearl, uno dei guaritori più famosi a livello mondiale. Pensate che nel 2009 prima del seminario avevo partecipato a un convegno dove rappresenta Eric Pearl che facilitava una guarigione in pochi secondi su una persona. Questa cosa mi ha colpito talmente tanto che ho deciso di partecipare al seminario. Dopo tre mesi dal mio primo seminario di guarigione ho facilitato la guarigione su mio padre, lo vedremo tra poco. Questo mi ha cambiato completamente la vita, il mio modo di percepire la realtà e per questo ho deciso di continuare lo studio delle nuove frequenze di luce e ho frequentato 10 dei seminari di Eric Pearl dal vivo in Italia e in Europa. Nel 2012 ho lavorato nel team della The Reconnection come mentore in training e insegnante assistente. Parliamo ora della guarigione di mio padre. Mio padre ha avuto un'ischemia che l'ha paralizzato completamente in tutta la parte destra del suo corpo. Ricordo che mia madre mi chiamò e mi disse che mio padre aveva avuto un'ischemia e mi chiese di andare immediatamente all'ospedale. Io mi trovavo a 80 chilometri di distanza dal paese dove abitavano i miei genitori. Sono entrata in panico. La prima cosa che ho fatto è stata quella di facilitare una guarigione a distanza con la foto di mio padre. Ho pregato, ho chiesto aiuto agli angeli, all'arcangelo Michele e ho facilitato questa guarigione a distanza. Da lì è nato un senso di pace e la mia voce interiore mi disse non ti preoccupare andrà tutto bene. Cosicché ho guidato per ben 80 chilometri con una serenità e una pace incredibile e una volta che sono arrivata all'ospedale c'era mio padre sdraiato su una brandina. Ho tenuto la mano di mio padre e ho continuato a trasmettergli le frequenze. La cosa incredibile è che dopo pochi minuti mio padre era iniziato a muovere prima la mano, poi il braccio, poi la gamba, il piede destro e dopo una settimana è uscito dall'ospedale e si è ripreso completamente. Potete comprendere che dopo un'esperienza del genere io veramente ho dedicato quel periodo della mia vita a studiare l'energia, a comprendere meglio la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce, a facilitare la guarigione nelle altre persone. Ma non solo, ho anche approfondito il tema degli angeli con Dorin Virtu. Dorin Virtu in quel periodo era la massima esperta di angeli, mi ha aiutato tantissimo soprattutto a riconoscere la frequenza dell'arcangelo Michele, a insegnarmi le basi sulla protezione psichica. Ricordo che ho partecipato a tre dei suoi seminari, a Riccione nel 2012, a Londra nel 2014, in Maui nel 2016. Però diciamo che poi col passare del tempo ho iniziato a diventare sempre più sensibile alle energie e ho dovuto interrompere la mia pratica di guarigione perché prendevo il peso energetico delle altre persone e a partire dal 2013 ho trascorso tre anni in preghiera e meditazione con l'arcangelo Michele che mi ha trasmesso degli insegnamenti fondamentali tra cui l'importanza della protezione energetica non solo della purificazione della protezione e della liberazione. Quindi veramente un grande lavoro spirituale su me stessa. Sotto consiglio dell'arcangelo Michele ho creato così un nuovo modo di lavorare con le nuove frequenze di luce che si adattasse alla mia nuova sensibilità consentendomi di aiutare le altre persone senza assorbirne i pesi energetici grazie alla protezione dell'arcangelo Michele. Negli ultimi sette anni ho lavorato con più di 800 persone con le sessioni private o nei miei seminari dal vivo e online. Ricordiamoci che tutti possono accedere facilmente a queste nuove frequenze di luce. Vediamo alcune testimonianze. Abbiamo Alberto Donella che ha percepito fin da subito le frequenze sia nel donarle che nel riceverle sentendo un vero e proprio upgrade nel suo campo energetico. Ha ricevuto uno sblocco energetico importante ed è rimasto molto sorpreso su come fosse in grado di percepire le frequenze anche dopo il seminario facilitando una guarigione proprio su di me. Si è talmente innamorato di questo lavoro che poi ha deciso di entrare a far parte del mio team. Daniela Zambelli qua parliamo di un'esperienza dal vivo, un seminario dal vivo a Milano. Lei già praticava altre tecniche di guarigione. Grazie a questo lavoro ha riscontrato un grande potenziamento dell'energia che non si aspettava rimanendo molto colpita. Ha ricevuto maggiore consapevolezza e più allineamento cambiando la propria prospettiva. Cristiane Rankin che durante il seminario dal vivo online quindi anche questo un lavoro online ha imparato velocemente a connettersi con le nuove frequenze di luce sentendo delle onde energetiche pulsazioni, aria, calore e altre sensazioni nelle mani e in tutto il suo corpo acquistando maggiore consapevolezza dell'energia e sentendosi più connessa con se stessa e col tutto. Ricordiamoci che ognuno di noi riceve le frequenze ma le percepisce in maniera diversa. Ancora abbiamo Loretta Agresti che considera questa esperienza come unica nel suo genere. Ha provato un'emozione fortissima quando ha sentito le frequenze molto chiaramente nelle sue mani nonostante si trattasse di un nuovo corso online dal vivo. È rimasta sorpresa su come le nuove frequenze fossero più potenti con la distanza. Ricordiamo ancora Mariana Tushuk la quale ha dato una vera e propria testimonianza di una vera e propria trasformazione immediata in quanto è passata da un forte senso di tristezza interiore ad una vera e propria trasformazione che le ha donato felicità, pace e serenità mai sentite prima e soprattutto sentendosi in un livello vibratorio molto più elevato. Ok andiamo a vedere quelli che sono i cinque errori del facilitatore della guarigione. Errore numero uno non purificarsi prima di facilitare una sessione di guarigione. Imparare la purificazione energetica prima di ogni sessione di guarigione è fondamentale per sentirsi centrati eradicati. Bisogna essere dei canali puliti per facilitare la guarigione sulle altre persone. Ebbene sì è molto importante mantenere il canale pulito. Questo è uno degli insegnamenti più elevati che mi diede l'arcangelo Michele spiegandomi che è molto importante quando si trasmettono le frequenze quando si lavora con le altre persone energeticamente parlando essere dei canali puliti fare una doccia spirituale affinché durante l'interazione con le altre persone possano essere trasmesse solo frequenze vibratorie elevatissime. Quindi è molto importante centrarsi radicarsi purificarsi e equilibrarsi. Errore numero due non usare la protezione psichica prima di facilitare la guarigione sulle altre persone. Quindi una volta che io mi purifico una volta che io sono un canale pulito è fondamentale praticare la protezione psichica per me stesso che facilito la guarigione sugli altri ma anche per il ricevente. Questa protezione psichica fa sì che durante la trasmissione delle frequenze vi sia un'interazione a tre. Dio, sorgente, amore, il ricevente è colui o colei che trasmette le frequenze. Quindi interazioni di sola luce e solo amore e che tutte le energie più dense vengono rilasciate. Pensate che quando non mi proteggevo durante le sessioni di guarigione prendevo i pesi delle altre persone e mi scaricavo energeticamente. Errore numero tre. Sentirsi in colpa quando le guarigioni non avvengono come vorremmo noi. Allora qua si tratta di uscire dall'ego, ossia l'ego in due forme, superiore o inferiore. L'ego superior si può manifestare ad esempio quando il facilitatore della guarigione si prende i meriti per una guarigione straordinaria, ad esempio una guarigione fisica. Mentre l'ego inferior si potrebbe manifestare quando una persona non si sente all'altezza, non si sente degna per questo dono così grande. È molto importante trascendere l'ego, è molto importante uscire quindi dall'ego, sentirsi come degli osservatori che osservano il lavoro energetico, osservano i risultati che possono avvenire e che non dipendono da noi ma dipendono da un potere molto molto più grande. Molte persone mi chiedono la guarigione arriva sempre, soprattutto persone che magari hanno dei problemi fisici più o meno importanti. È sicuro guarire con la guarigione energetica? Assolutamente la mia risposta è no, io non so mai che cosa arriva, non so mai che cosa è il meglio per te, questo lo può sapere solo la tua anima e il tuo sé superiore. Dico sempre alle persone segui il tuo sentire, segui se questo lavoro può essere per il tuo massimo bene. Non assolutamente il facilitatore della guarigione non deve convincere nessuno, non deve far credere cose non vere. Ok queste trasformazioni avvengono, avvengono in tanti simili livelli, possono avvenire nel piano fisico, alle volte arrivano nel piano emozionale e spirituale e arrivano nel momento giusto, possono essere istantanee o possono avvenire dopo un po' un certo periodo di tempo che possa essere una settimana, un mese o più mesi. Io non so mai che cosa arriva dall'altra parte, resto aperta, osservo e so che arriva il massimo bene per tutte le persone coinvolte. Come facilitatore della guarigione sei un intermediario per queste meravigliose frequenze. La guarigione arriva nella misura in cui l'anima del ricevente sceglie di riceverla. Come facilitatori della guarigione noi possiamo solo osservare e accettare ciò che arriva sapendo che per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. La guarigione non dipende dalla tua volontà. Quindi noi dobbiamo metterci da parte, dobbiamo osservare, dobbiamo trascendere l'ego, dobbiamo essere dei canali puliti, non dobbiamo giudicare e dobbiamo far sì che l'energia arrivi liberamente a noi affinché possiamo trasmetterla, dare il meglio di noi stessi, ma comprendere che la guarigione non dipende da noi ma da un potere più grande di noi. Ok? Errore numero 4. Non riuscire a farsi pagare le sessioni di guarigione o farle pagare a basso costo. Andiamo a vedere nello specifico. Molti operatori della luce e facilitatori della guarigione devono sciogliere i voti di povertà e cambiare i propri sistemi di credenze che gli stanno impedendo di ricevere l'abbondanza che meritano e di cui sono degni. E quindi di fondamentale importanza per il facilitatore della guarigione eliminare tutti i voti, i patti, gli accordi, sciogliere tutti i blocchi, tutto ciò che gli sta impedendo di ricevere l'abbondanza che merita. È molto importante cambiare il proprio rapporto col denaro. Ricordiamoci che il denaro è pura energia monetaria, non ha né un valore positivo né un valore negativo, un'energia di scambio. Quindi l'operatore di guarigione investe il suo tempo. Ogni sessione di guarigione ha una durata di mezz'ora. Quindi deve essere una scelta libera se facilitare le guarigioni solo per amici e parenti. Quindi una persona potrebbe anche scegliere di imparare questo lavoro per aiutare i propri cari oppure per lavorare professionalmente. Naturalmente se una persona sceglie di facilitare la guarigione professionalmente è importante che sia aperta a ricevere un compenso per quello che offre, per il servizio che sta offrendo. Errore numero 5. Molti operatori di luce e facilitatori della guarigione hanno delle forti resistenze nell'investire nella propria formazione. Pensate che io fin dal 2003 ho iniziato a fare crescita personale, leggendo centinaia di libri di crescita. Veramente ero insaziabile, volevo imparare, volevo crescere, volevo inventare una persona migliore, volevo guarire me stessa. Fino a quando appunto nel 2009 ho deciso di investire su me stessa e ho deciso di partecipare al mio primo seminario di guarigione energetica dove ho imparato a sentire per la prima volta le nuove frequenze di luce. Tutto quello che ho ricevuto da questo seminario è andato oltre le mie aspettative. A soli tre mesi dal seminario ho facilitato la guarigione di mio padre e anche altre guarigioni e poi ho finalmente compreso qual è lo scopo nella mia vita. Tanto è vero che mi sono dedicata anima e cuore a questo lavoro. Ecco andiamo a vedere i tre segreti che il 97 per cento dei facilitatori di guarigione non conoscono. Segreto numero uno anche le persone empatiche o più sensibili alle energie quindi anche coloro che hanno il dono della chiarosenzienza, coloro che sono ipersensibili all'energia possono facilitare questo lavoro con le nuove frequenze di luce con la protezione sacra dell'arcangelo Michele. Andremo a vedere un attimino come è strutturata la preghiera di protezione prima di facilitare una guarigione energetica. Quindi come abbiamo detto prima è fondamentale la protezione psichica proprio per evitare di prendere il peso degli altri. Quindi anche le persone più sensibili possono accedere a questo livello vibratorio elevatissimo e possono interagire con le frequenze senza prendere il peso degli altri. Quindi come è strutturata la preghiera? Bisogna chiedere all'arcangelo Michele di aspirare tutte le energie di paura che protresti aver assorbito dagli ambienti e dalle altre persone. Poi bisogna chiedere all'arcangelo Michele che siano tagliate tutte le corde tra te che faciliti la guarigione e il ricevente. Che siano purificate le intenzioni, le parole e le azioni. Che sia radicata l'energia fino al centro della madre terra. Ok? Che sia creato uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità quindi alle energie più dense così dentro e così fuori. E che siano elevate le nostre le vostre vibrazioni e frequenze e che siano sintonizzati nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Ok? Quindi questa è una traccia di quella che è la preghiera di protezione prima di accedere a una prima di facilitare una sessione di guarigione. Naturalmente nei miei percorsi di coaching avanzato verranno date in dotazione tutte le preghiere da utilizzare giornalmente e prima di ogni sessione di guarigione. Segreto numero due. Meditazione per purificare l'energia in tutto il campo energetico e nei chakra. Per radicare le energie fino al centro della madre terra. Ok? Andiamo a vedere nello specifico. La struttura della meditazione di purificazione con l'arcangelo Michele prima di facilitare una guarigione. Invitiamo l'arcangelo Michele ad aspirare tutte le energie egoiche dentro di noi e intorno a noi. Ok? Vengono tagliate tutte le corde tra te e l'altra persona. Si parte dall'alto verso il basso quindi a partire dal dodicesimo chakra l'energia del sé superiore discende sempre più giù. Ok? Fino ad arrivare ai chakra fisici quindi il settimo chakra della corona. Potete guardare il disegno nell'illustrazione abbiamo il settimo chakra il sesto chakra il terzo occhio la gola il cuore il plesso solare il secondo chakra il primo chakra e ancora l'energia scende sempre più giù sempre più profondamente fino a radicare alla terra dove avviene una unione tra il sé superiore l'energia della madre terra che incontra il cuore della madre terra in questa unione e inizia ad avvenire un interscambio di luce e amore dall'alto verso il basso dal basso verso l'alto quindi l'energia della della terra risale fino al sé superiore e abbiamo questo interscambio di luce e di amore questo ci consente di radicare la nostra energia poi ancora si chiede la protezione dell'arcangelo michele non solo nel corpo fisico in tutti i nostri corpi in tutti i livelli del nostro essere in tutto il nostro campo energetico ora praticamente noi ci sentiamo espansi ci sentiamo un tutt'uno con l'universo ci sentiamo un tutt'uno anche con l'altra persona con la quale andremo a interagire durante la sessione di guarigione ma questa unione col tutto è un'unione nell'amore con la sacra protezione di michele e quindi tutto questo ci consente veramente di essere forti di essere radicati di essere centrati quindi questo è un esempio di quella che la meditazione di purificazione naturalmente nei miei percorsi di coaching verranno date in dotazione tutte le preghiere da utilizzare giornalmente e prima di ogni sessione di guarigione abbiamo il segreto numero 3 due segreti in uno il primo processo di liberazione per sciogliere i voti e liberarsi il secondo metodo di logo ceiling per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria vorrei precisare che le preghiere di liberazione voi le trovate nel mio sito internet connessioni angeliche punto com e sul canale youtube connessioni angeliche con l'arcangelo michele lo stesso processo di liberazione una preghiera potentissima che è stata scritta e da me canalizzata attraverso l'arcangelo michele e quindi è stata una preghiera che io ho completato per liberare me stessa per purificare me stessa per liberarmi da tutti i voti gli accordi pati tutto ciò che a qualsiasi livello mi stava limitando in questa vita materiale quindi lo spirito che incontra la materia perché è importante che noi uniamo la nostra parte spirituale alla vita terrena quindi questo processo di liberazione è un grande sostegno è un grande aiuto soprattutto per i facilitatori della guarigione il secondo metodo è un metodo molto potente chiamato logo ceiling un metodo da me ideato che aiuta tantissimo per cambiare il proprio sistema di credenze in questo caso legato all'energia monetaria perché abbiamo visto nei cinque errori i blocchi e le paure legate ai soldi quindi la paura di non farsi pagare abbastanza quindi il blocco nel di non riuscire a farsi a pagare abbastanza o addirittura a regalare le sessioni di guarigione ok quindi il processo di liberazione uno strumento potentissimo per liberarsi da tutto ciò che è denso energeticamente ed è una risorsa che potete trovare nel mio sito internet nel mio canale youtube di connessione angeliche logo ceiling è una modalità molto potente che in grado di eliminare le credenze limitanti molto velocemente per cambiare il proprio mindset il proprio rapporto tra i soldi e spiritualità tra dare e ricevere nei miei percorsi di coaching insegno questa modalità per aiutare i miei studenti a cambiare il proprio rapporto con i soldi quindi quello che ti ho mostrato è l'intero processo ora potresti chiederti posso facilitare le guarigioni anche se mi trovo lontano dalla persona solo le persone sensibili si devono proteggere dove posso imparare tutte queste cose posso facilitare una guarigione anche se la persona interessata non lo sa io non sono religiosa l'arcangelo michele mi protegge lo stesso bene hai due opzioni prendere queste informazioni applicarle da solo da sola oppure lavorare a stretto contatto con me nel mio nuovo percorso di coaching avanzato online della durata di due mesi per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo michele e ricevere vere trasformazioni in tutti i livelli fisico mentale emozionale e spirituale per te e per i tuoi clienti ecco cosa faremo insieme imparerai ad accedere alle nuove frequenze di luce in maniera semplice naturale fin dalla prima sessione imparerai a riconoscere le frequenze le percepirai nel modo più giusto per te attraverso il calore il fresco le onde energetiche ognuno di noi è diverso ognuno di noi percepisce l'energia e le frequenze in un modo personale imparerai così a giocare con le frequenze iniziando a riconoscerle e facendole diventare parte di te ricordiamoci che in questo percorso di coaching di due mesi si farà tanta esperienza della guarigione quindi si lavorerà attivamente con le altre persone faciliterà la guarigione sulle altre persone riceverai la guarigione dalle altre persone imparerai la guarigione con gli occhi attraverso lo sguardo imparerai la guarigione con l'utilizzo di una foto imparerai la guarigione col tocco imparerai ancora la guarigione a distanza imparerai l'autoguarigione imparerai a facilitare la guarigione a più persone contemporaneamente questo ad esempio potrebbe essere possibile se dovessi facilitare la guarigione in una coppia piuttosto che in una famiglia o per l'intero pianeta imparerai la guarigione di liberazione in associazione al processo di liberazione imparerai tutto sulla protezione psichica e molto molto altro ancora prima però di parlarti dell'investimento bonus gratuiti bonus numero 1 protezione psichica sessioni di coaching aggiuntive dove verrà spiegato tutto sulla protezione psichica e verrà dato in dotazione tutto il materiale necessario anche quando finirà il percorso di coaching questo bonus ha un valore di 500 euro cosa imparerai in queste lezioni aggiuntive che faremo insieme imparerai perché la protezione chi è l'arcangelo michele e come sono arrivate queste informazioni a me cos'è la protezione psichica giornaliera cos'è la purificazione cos'è il radicamento imparare ad elevare le proprie frequenze vibratorie ritornare ad uno stato di equilibrio l'importanza di essere la guarigione verranno date in dotazione quattro preghiere ed una meditazione ok già pronte affinché tu possa avere tutto il materiale necessario anche quando finirà il percorso di coaching vediamo il bonus numero 2 cambiare mindset lezioni aggiuntive per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria con l'utilizzo di un sistema innovativo chiamato logo ceiling per eliminare le credenze limitanti valore euro 500 cambiare mindset per passare al prossimo livello dell'evoluzione con logo ceiling ricordiamoci che logo ceiling è una modalità molto potente che si avvale del potere della parola è utilissima per cambiare le credenze obsolete per cambiare tutto ciò che ci limita e ci blocca quindi attraverso questo lavoro energetico impareremo ad equilibrare il dare il ricevere comprendere che i soldi sono energia l'importanza del benedire i soldi ok l'importanza di comprendere che siamo anime incarnate in un corpo fisico materiale quindi è importante integrare lo spirito nella materia aprirsi al ricevere l'importanza del non giudicare dare ricevere nell'amore verranno trasmessi tutti gli insegnamenti dell'arcangelo michele e si lavorerà tantissimo con logo ceiling per eliminare le credenze limitanti bonus numero 3 come diventare un canale pulito lezioni aggiuntive per imparare ad elevare le proprie frequenze e per uscire dall'ego valore 400 euro vediamo le lezioni aggiuntive che faremo insieme lezione per uscire dall'ego quindi comprendere cos'è l'ego la differenza sostanziale tra ego superiore ed ego inferiore l'importanza del comprendere che la guarigione è indipendente da noi l'importanza di accettare quando la guarigione non avviene come vorremmo o come vorrebbe il nostro cliente accettare che non dipende da noi questo è anche importante trasmetterlo ai nostri eventuali clienti alle persone a cui facci facilitiamo la guarigione importante spiegare che noi non possiamo garantire nulla che non sappiamo mai cosa accade sappiamo solamente che arriva il massimo bene per tutte le persone coinvolte quindi è molto importante staccarci da un particolare risultato ci sarà una lezione sul guaritore guarito quindi l'importanza di diventare un canale pulito essere esempio di amore in terra andiamo a vedere che cosa ottieni nel complesso abbiamo visto il percorso di coaching di due mesi per imparare a lavorare con le nuove frequenze di luce del valore di 1600 euro più il bonus numero 1 lezioni aggiuntive sulla protezione psichica più tutto il materiale didattico valore 500 euro bonus numero 2 lezioni aggiuntive per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria con l'utilizzo di un sistema innovativo chiamato logo ceiling per eliminare le credenze limitanti valore 500 euro bonus numero 3 lezioni aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore 400 euro in tutto il valore totale è di 3000 euro ti starai domandando quale sarà l'investimento bene non sarà di 3000 euro e nemmeno di 2000 euro questa è un'opportunità speciale per te tutto per un investimento molto più basso perché lo faccio ti starai domandando per due motivazioni la prima è la prima volta che lancio questo percorso di coaching di due mesi sarai seguita o seguito da me direttamente mi serve il tuo feedback per perfezionare questo lavoro numero 2 cerco nuovi casi studio legati a questo nuovo percorso di coaching così da mostrare la tua testimonianza legata alla tua personale esperienza quindi il prossimo passo da fare manda subito la tua candidatura e clicca il pulsante qui sotto l'unica cosa solo 10 posti disponibili motivo numero 1 io e il mio team lavoreremo direttamente con te e ti dedicheremo tanto tempo motivo numero 2 nel coaching di gruppo online della durata di due mesi vogliamo darti il massimo delle attenzioni lavorerai a stretto contatto con me per questi motivi questa opportunità è solo attraverso candidatura motivo a voglio essere sicura che questa sia la migliore soluzione per te motivo b passeremo tanto tempo insieme abbiamo parlato di due mesi e voglio essere sicura che sei una persona seria ok che sei motivata e che sei in allineamento a questi insegnamenti cattive notizie dovrai agire in fretta dovrai agire in fretta perché accetto un massimo di 10 studenti per classe ho bisogno dei feedback il prima possibile inizieremo entro due settimane ma devo sentirvi uno ad uno e quindi chiuderò le candidature entro pochi giorni non esiste garanzia questo è molto importante io e il mio team ti dedicheremo tanto tempo e attenzioni e quelle non sono rimborsabili ma ecco finalmente la sorpresa speciale solo perché agisce velocemente abbiamo un quanto bonus un extra bonus ma solo per chi si candida prima della fine di questo training vediamo il quarto bonus tre sessioni di guarigione a distanza facilitate da me da alberto oppure da un altro membro del mio team valore 600 euro bene avviamo ora il countdown hai ancora pochi minuti per candidarti in questi pochi minuti andrò a rielencare la promozione e risponderò ad alcune domande universali bene iniziamo abbiamo parlato del nuovo percorso di coaching avanzato un percorso di coaching di gruppo della durata di due mesi per imparare a lavorare con le nuove frequenze di luce del valore di 1600 euro il bonus numero 1 lezioni aggiuntive sulla protezione psichica più tutto il materiale didattico valore 500 euro bonus numero 2 lezioni aggiuntive per cambiare il proprio mindset legato all'energia monetaria con l'utilizzo di un sistema innovativo chiamato logo ceiling per eliminare tutte le credenze limitanti del valore di 500 euro bonus numero 3 lezioni aggiuntive per imparare a diventare un canale pulito valore 400 euro ed infine il bonus numero 4 ossia la sorpresa finale 3 sessioni di guarigione del valore di 600 euro valore totale di questa offerta è di 3600 euro naturalmente tutto per un investimento molto più basso quindi non perdere questa opportunità unica nel suo genere manda subito la tua candidatura cliccando il pulsante qui sotto iscriviti ora al nuovo percorso di coaching con le nuove frequenze di luce della durata di due mesi proseguiamo ora con le domande e le risposte domanda numero 1 com'è strutturato il coaching? si tratta di un percorso di coaching di gruppo lavoreremo su zoom la classe sarà composta da massimo 10 partecipanti quindi avrai la possibilità di interagire energeticamente con le altre persone in quanto faciliterai la guarigione sugli altri e gli altri faciliteranno la guarigione su di te quindi sarà un interscambio di luce e di amore in che cosa la guarigione con le nuove frequenze di luce è diversa dalle altre tecniche di guarigione? è importante sapere che il lavoro con le nuove frequenze è un lavoro libero non vengono seguite tecniche non vengono tracciati simboli viene fatta una preghiera di protezione prima di lavorare energeticamente con le frequenze dopodiché il lavoro è completamente libero la particolarità di queste nuove frequenze è che esse comprendono le energie di guarigione fino ad oggi conosciute ma si espandono ad un nuovo livello chiamato luce di informazione esse sono molto più potenti con la distanza a differenza di tutte le energie di guarigione tradizionali che sono più forti mantenendo le mani vicino al corpo ok? quali altri costi devo sostenere? dovrai sostenere il costo della quota associativa per l'iscrizione annuale all'associazione connessioni angeliche se non posso partecipare in diretta cosa devo fare? non ti devi preoccupare perché riceverai le registrazioni di ogni lezione anche se quello che io consiglio è quello di partecipare attivamente al percorso di coaching perché questo ti darà la possibilità di esperienziare vivamente la trasformazione e la guarigione energetica con le nuove frequenze di luce una domanda che molte persone mi pongono è questa la guarigione arriva per tutti? allora è importante precisare che tutti ricevono la trasformazione più giusta per loro per il loro massimo bene tutto ciò non è prevedibile e può presentarsi sotto una forma diversa da quello che ci aspettiamo in quanto è sempre l'anima a decidere qual è il massimo bene della persona per questo è importante precisare che il lavoro con le nuove frequenze di luce con l'arcangelo Michele non assicuro garantisce un risultato specifico parziale o completo da malattie, disagi che possano essere a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale quindi arriva la trasformazione più giusta per noi ma non sappiamo mai cosa arriva nello specifico bene io spero di essere stata esaustiva io vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo ci vediamo dall'altra parte un salutone un abbraccio Rossella ciao ciao